Benvenuti a MeteoGiulianci.it. Domani, domenica 5 agosto, ancora rovesce temporale diffuse sulle regioni alpine, con qualche sconfinamento anche in pianura su Piemonte e Lombardia. Invece è molto caldo su gran parte del centro nord, Puglia ed isole maggiori, per l'insistenza dell'anticiclone nordafricano. Ma vediamo la mappa del satellite virtuale. Vedete nuvole che ricoprono le regioni alpine e le regioni di nord-ovest per il passaggio di una perturbazione atlantica a nord delle Alpi. Che tempo allora farà domani? Bello e soleggiato su quasi tutta l'Italia, a parte rovesce temporale sparsi, soprattutto nel pomeriggio, sulle Alpi, sul Piemonte e sulla Lombardia. Vediamo le temperature massime previste per domani. Temperature massime intorno a 27-29 gradi su Piemonte e Liguria, 30-34 sul resto d'Italia, ma con molti valori di 35-36 gradi su est Lombardia, Basso Veneto, Emilia, Romagna, interno del centro, Puglia, est Sicilia e addirittura punte di 37-38 gradi nel Foggiano e nel Seracusano. Bene, termino qui. Vi ringrazio per l'ascolto. Ancora un buongiorno.